A Subbiano due giornate dedicate all'arte in una location indubbiamente d'eccezione. Sì, questa volta presso la Torre del Castello di Subbiano abbiamo una mostra di pittura e di scultura. In questo caso il pittore è Ivan Cipriani Buffoni, lo scultore è Alessandro Marrone, che ci mostreranno alcune delle loro opere più conosciute, meno conosciute e addirittura delle opere nuove che sono state create proprio per l'occasione. Questa iniziativa si inserisce nell'ambito della festa di fine estate di Subbiano 2016 che si svolge però in una location diversa, in zona stadio. Quindi invitiamo tutti a venire a visitare la zona più centrale di Subbiano, il castello, e questa mostra che è veramente una cosa unica. La prima volta che a Subbiano si trovano questi due autori e special guest abbiamo anche Alessandro Bernardini, che è un giovane autore, un giovane pittore che opera, è aretino, ma opera per lo più nell'ambito del Fiorentino, e che esporrà le sue opere assieme agli altri. Quindi invitiamo tutti a venire per questo fine settimana, dalle 9.30 alle 20.30, orario continuato, siamo ad aspettarvi per vedere questi tre nostri concittadini che espongono le loro opere.